Sì, ma qui niente karaoke. Aspetta, un microfono, questo sembrerebbe, ecco... Uh, anche acceso! Gusti, a lusso, addirittura con i led. Però suona veramente... Ciao, ciao! Ti piace avere un nuovo... Ah sì, assolutamente sì, mi sembra molto carino. Pendo dalle tue labbra, raccontami, narrami tutto di questa cassa che fa... Il prodotto karaoke ti posso già far sentire il microfono, perché è un microfono di alta qualità. Come vedi, il suono è molto pulito, molto forte, posso ancora alzare, quindi sia per l'interno che per l'esterno è un ottimo prodotto. Super portatile, super compatto, con maniglia, quindi si può trasportare ovunque. È leggero! Esatto. Autonomia di 10 ore. Quella è importante. Ricaricabile, ovvero, trasportabile ovunque, ricaricabile, eccetera, eccetera. Certificazione IPX4, quindi resistente agli schizzi, acqua, eccetera, eccetera, quindi anche a bordo piscina. È tranquilla, è sicura. Esatto. E poi vedo questo woofer incastonato in una luce led preziosa. Esatto, in questi led circolari che seguono l'andamento della musica in riproduzione, quindi molto bello da vedere, un effetto estetico molto bello. In più si aggiungevano anche queste tre luci strobo, diciamo proprio per avere un effetto molto più coinvolgente, diciamo, un po' più controlli. Allora, c'è tutto qui, quindi accensione, collegamento con il bluetooth, controllo dei bassi e la luminosità poi dei led. Tranquillamente e comodamente utilizzabile tramite il bluetooth del telefono o tramite l'applicazione su smartphone e tablet di JBL Party Box. Ah, poi mi fai vedere la sua app perché sono curioso di capire come poi, perché è comoda quando sei lì, che sei nella festa. Esatto, super comoda sia da associare che da gestire. Il microfono ha dei suoi controlli per poter essere settato, tarato? Sì, guarda, sono proprio semplicissimi. Un led bianco per gestire, diciamo, l'accensione e lo spegnimento. E in più sul retro del party c'è sia il volume che la gestione, appunto, dell'eco, eccetera, eccetera, per, diciamo, avere una pulizia di suono. C'è un minimo di equalizzazione e dici l'eco? Sì, in effetti, per chi canta l'eco è importante. Sia per i novellini che comunque per chi vuole un prodotto un po' più professionale. Domanda, ha anche degli ingressi se volesse attaccargli un player esterno? Sono, diciamo, due ingressi USB, quindi per chiavette, eccetera, eccetera, sia anche il classico house, quindi jack, per avere, diciamo, qualcosa di esterno da poter collegare. Beh, mica male, mi sembra completo. Adesso però voglio venire lì vicino e toccare un attimino più scolare, vedere com'è, posso? Certo, prego. Bene, vediamola da vicino e vedo in realtà anche più tasti di quelli che mi hai detto, vedo un bass boost. Esatto. Che si può inserire o disinserire. Questo tramite pressione si può andare a gestire la qualità del basso e quindi la profondità del suono per avere un suono ancora più di qualità. Beh, mica male, da una pompa, diciamo. Esatto, esatto. E poi abbiamo, ah, giustamente, i led, ah, che cambiano colore, come abbiamo detto prima. Molto, molto carino, da selezionare tramite sempre il flick, gestione del bluetooth, quindi sempre andando in ricerca, si può inserire tranquillamente dallo smartphone, dal tablet, eccetera, eccetera. Il tasto play, anche vedo. Riprodurre contenuti multimediali fisicamente tramite il diffusore. E dietro sostanzialmente i… Tutti la gestione per il karaoke. Il microfono, i bassi, il treble e l'eco, per gestire al meglio poi il suono riprodotto dal microfono. Ah, è come, in effetti, vedi che, come hai detto tu, rileva le basse e praticamente sposta i led in funzione anche estetica del… Del suono. Esatto, esatto. Adesso, ah, però l'app, l'app, mi hai detto dell'app? Sì, ce l'ho direttamente scaricata sul mio, sul mio telefono. È semplicissima. Ah, vediamo. È molto minimal, molto intuitiva. Sì, in effetti è… Con il nome del dispositivo associato e qui si può andare a giocare su qualsiasi funzione wireless. del dispositivo. Per esempio, qui io posso selezionare i colori in evidenza. Ovvero tutti i controlli che abbiamo in… Esatto. Sia fisici si possono andare a selezionare direttamente dal telefono. Quindi riproduzione dei contenuti multimediali, gestione poi dei bassi, equalizzazione, esatto. Quindi semplicissima e molto intuitiva. Senti. Beh, ottimo. A tutto per farsi una festa a Regola d'Arno.